Musica Bello a tutti amici di youtube qua E' già onesticato che vi parlo e oggi siamo qua in una nuova serie Finalmente raga La classe dell'iscritto Ringrazio subito Rabel per avermi dato questa classe E vi lascerò il suo commento E la classe in sovraimpressione In modo che se volete divertirvi Come mi sto divertendo io A sclerare La copiate e ci giocate pure voi E subito Subito dopo questa premessa E questa spiegazione Vi spiego un attimo Cosa ho intenzione di fare nella classe dell'iscritto Ho intenzione di scegliere Un commento a video Per Come si dice Con cui giocare L'episodio in cui voi mi suggerite O classi di merda o classi che comunque vorreste vedere Sul mio canale Per vedere come le uso io E come potrebbero essere usate Oggi andiamo a giocare con Un longbow Con lo scout Che è veramente imbarazzante Però Ce la si può comunque cavare Con lo scout Con il silenziatore Come secondaria Madonna Il lancio No hitmarker Lanciarà alzifiero Assist Puttana Puttana troia 1-6 Sono entrato da 10 secondi 1-6 Ha proprio detto messa squadra Puttana troia Se li becco qua sono morto Ve lo dico Lo sto già dicendo Se li becco in questa zona qua Ok Se li becco qua No invece Oh forse sono dietro di loro No Filippo La granata grappolo Te la puoi infilare nel culo Ti rasce Madonna Camperino Il lanciarazzi Figa Grazie a Rubble Di avermelo equipaggiato Lol Allora Fai vedere No Lì non c'è nessuno Dove cazzo sono i nemici Eccolo Madonna Non l'ho preso Tiro al piattello Devo fare ragazzi Ragazzi Allora Fai vedere Un attimo Di là Non c'è nessuno Perfetto Proviamo Non l'ho preso Ok Muori Ok Ora proviamo Andare di qua Ok Giochiamo intelligentemente Muori Ma perché io c'ho la mira così da poveri Con lo scout ve lo giuro che non è uguale a giocare con il mirino normale del longbow È qualcosa di diverso Non so spiegarvi il feeling è totalmente diverso Però se lo prendete è comunque un buon mirino Non è veloce come Ok Ok Perfetto Stiamo facendo le stragi No 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 Non spara Ci impiega un botto a ricaricare e a sparare È veramente colpo Il lento È lento Il colpo è veramente lento Raga Madonna No Madonna Ragazzi Eccolo Allora Vediamo un attimo se noi saltiamo di Oh Hitmarker Ovviamente Assist È palese Faccio solo assist io nella mia vita Ok Proviamo a usare il claw Da queste parti No no Fai schifo Con il cane Ce n'era uno anche camperato in un angolo Imbarazzante Figa regà Qua proprio Lo faccio per Per i camper Dovete scrivere in chat Lo faccio per i camper Lanciarazzi Lanciarazzi for camper Chiamatelo Adesso guardate Vi entro in prefire al bastardo C'è Eh Volevi fare il furbo Lanciarazzi contro il camperino bastardo Voleva fare il furbo guys L'abbiamo punito No Eh l'ho misso No Oh Oh no la granata grappola Te la puoi infilare nel culo Io ti faccio il giro Eh Lol Lol A un certo punto ho detto no Perché non usare Il lanciarazzi Che è più divertente Vedere la sua esplosione in diretta Lol E infatti è stato così Ovvio Boom Ci è rimasto malissimo Il nostro avversario Si sarà andato a suicidare Oh No c'era la collatera E l'ho missata Come mio solito Io ho misso Le cose belle Poi faccio Le proate a cazzo di cane L'altro giorno ho fatto una tripla E non mi ha registrato E dovevate sentire la mia reazione Quando Non mi ha salvato la clip sulla play Perché la partita è finita E Penso di aver Regi quittato Poche volte Così tanto Muori bastardo Nice Ma cosa stiamo facendo Regà Questo scout E questo No quello Ho la sorpresina per te Il lanciarazzi è fresco Bella la classe Cioè Mi ha fatto una classe Ignorante Ma può essere anche considerata Una bella classe Con il mirino scout È semplicemente Un pelo più lento Tirare fuori il mirino Ma non sembra Nella beta Era molto Era molto più Più lento La differenza Si notava di più Questo deve morire Intanto No Quello l'hanno L'ho vinto Oh Doppia No Madonna Sto facendo le peggio stragi Regà Tanta roba Tanta roba In questo episodio Come primo episodio Abbiamo fatto il botto Nella classe Eh vabbè Questo vola Plana proprio Mi plana in testa Allora Facciamo una cosa Furba Facciamogli il giro Da Da qua No No Lezzi Lezzi Proprio Eh No Non riesco a prenderli Perché quando becchi Quelli lì col mitra Proprio già Con il mirino teso Da lezzi Bisogna stare un pelo Più indietro Cercare di Ecco Eh vabbè Hanno delle armi È un po' Squilibrato Alcune volte Per quanto riguarda Eh vabbè Basta con ste granate Cioè Stavo in positivo Sono in negativo In un minuto Che coglioni Eh fammi vedere una cosa Prendi il glow Proviamo Eh beh proviamo a far cosa Che mi uccide appena lo prendo Puttana tra Neanche il tempo di tirarlo fuori Meno male Che non me l'ha cancellato E qua non fa neanche il warride Perché non lo piglia Eh Quello là non muore Gesù Cristo Basta Non farmi Non fatemi dire Cose brutte Vedete cosa vuol dire La classe degli iscritti Sclerare Però è tanta roba Perché io mi sto divertendo Grazie alla classe di rubble E vi ripeto Vi invito A lasciare un commento Se siete arrivati Fino qua Nel punto del video Perché La maggior parte delle persone Quitta all'inizio Lol Allora Andiamo qua Vabbè Questo Non crepa Ok Non crepa Sei proprio un lezzo Maledetto Ok Capo Che cazzo è che mi Continuo Un elicottero Bastardo No io voglio La killcam La killcam Di lanciarazzi Regà L'abbiamo vinta Regà Va bene Va bene Questa partita La prima partita Sulla classe degli iscritti Ha fatto il botto Abbiamo giocato abbastanza bene Poi ci siamo persi Verso la fine Ma comunque La partita è venuta Molto bene Quindi spero che il video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Sicuramente Un commento Con cui mi consigliate Della prossima classe E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Della classe degli iscritti Bella guys